Ciao! Allora facciamo le polpettine di patate. Allora io ho messo tre patate medie, eccole qua, poi ho messo una carota grande e adesso ho schiacciato tutto. Adesso ci ho messo un uovo, solo il rosso, un porno. Adesso ci metto un po' di pepe, eccolo qua, un po' di pepe, poi ho tritato il prezzemolo e ci mettiamo un po' di prezzemolo e poi ci mettiamo un pochettino di aglio. Ecco qua, vedete? E adesso una manciatina di sale ce la mettiamo. Una pizzicata di sale. E una di pan grattato, ecco qua, una manciatina. Ma vedete? Ecco qua, vai. E adesso mischiate tutto. Vado a mischiare tutto e poi preparo delle polpettine. Che bello il pasto. Queste sono buone, eh? Queste sono proprio buone. Ecco qua, vedete? Adesso batto l'uovo, qui c'è il pan grattato, mettole qua, poi prepariamo le pochettine. Ecco qua, ripassata nell'uovo e poi nel pan grattato. Ecco, me le preparo tutte e poi le vado a friggere. Ecco qua, vedete? Ecco qua. Guardate che polpettine, che buone, che so. Ecco qua. Vai, prima polpettina, eccola qua, eh? Sì, sì. Guardate che bello pure il pan grattato. Sì, è quello tutto colorato, eh? Che lo vende il supermercato. Ecco qua. Vai. Sì, questo lo trovate in tutti i supermercati. Sì, sì. Che adesso nei supermercati vanno di moda tutti questi pan grattati, colorati, misti, insomma per tutte le panature. Vedete? Vai, guardate. Poi io dopo che le ho fatte le faccio riposare un pochino e poi le frigo, le faccio rassodare, insomma, ecco. E quanto so buone. Ecco qua. Guarda. Allora, qualcuno ha anche la mozzarella, eh? Sì. Ecco qua. Abbiamo fatto. Vai, che spettacolo. Guarda che belle che so, ragazzi. Queste pure per i bambini, che volete far mangiare le verdurine. Così. Polpettine così, ci mettete la mozzarella dentro. Ah, e vai. Verdurine schiacciate, non se ne accorgono. E via. E vai col tango. E ultima polpettina. Girdarella si inventa tutte, furbacchiona. Eccole qua. Scusate la voce, ma sti giorni a forza di parlare, di giocare, di strillare, qua, se ne è nata pure la voce. Ecco qua. Andiamo a friggere le nostre polpettine di patata, carota, coltentiamo la mozzarella, che vuoi fare, regà? Non ci ho messo il parmigiano, perché sti giorni a farò barbassante, eh, regà? Non ci ho messo il parmigiano, questa è cosa buona così. Lo voglio dire perché non ci ho messo. Ecco qua. E adesso le facciamo friggere piano piano. Va bene, amore? Tirambacetto, Gildarè. Belli mia. Sì, guarda che polpettone, raga, mamma mia. Te ne mangi una, ma come se vengono, eh? Mamma mia, mamma mia, guarda che roba. Guardate un po'. Spettacolo, raga. Mamma mia, queste sono le cose che mi piacciono a me, guarda. Senti che profumo che danno, uau, un odore. Proprio buono, sto odore, guarda. Passiamo questa qua e questa qua, così facciamo. Ah, bel fiore dei polpette, vati, eh, Gildarè. E' stanca, Gildarella. Madonna, regà, ancora me lo riprende, eh? Gli ha dato, sì, giorni, tra pentole, pentolini, degami, padelle. Oddio, mamma mia, ne la posso fare, guardate. Però mi pareva vero, eh? Eh, certo, eh. Voilà. Pronte, Gildarè? Prontissime. Eccole qua, vedete? Guarda che robetta. Tien. Eccole qua pronte, vedete? Adesso facciamo. Sono venute una meraviglia, eh? Sono venute. Ah, che spettacolo, ragà. Guardate che belle. Eccola qua, eh? Vedete? Guarda un po' che roba. Che spettacolo. Eh, ma questo è scotta, no? Scotta, Gildarè? No, già. Buona, però. Scotta, scotta, però. Non si può resistere qua, eh? Guardate un po' che bella che è. La panatura, bella, scrocchiarella. Ti è. Sentite? Ti è un po'. C'è una fame. Sa far venire l'acquolina, Gildarè. Guardate poi quanto so belle. Che bella duratura che è venuta, eh? Lo devo dire? Sono speciale. Ah, stavamo aspettando che ce lo dicevi. Questa proprio è bella scrocchiarella, eh? La panatura. C'è. C'è, sta da sentire, che roba. Mmm. Questa ma la mangio dopo. Eccole qua. Spero che vi siano piaciute. Fatele perché i bambini piacciono, ma anche i grandi. Le grossi. Non solo i bambini. E comprate sto pan grattato perché è favoloso, rimane scrocchiarello. Questo lo trovate nei supermercati, come già abbiamo detto prima. Sì, sono tutti pacchettini. Poi ci stanno, sì, sono vari gusti per varie panature. Ce ne stanno tanti tipi. Va bene, amori. Questa non vi sbagliate perché dentro tanto c'ha i pezzettini arancioni, gialli, quindi non vi sbagliate. Poi c'è tutta gialla, c'è tutta mista con degli aromi, credo. Poi scegliete voi quella che vi piace e quella che fa al caso vostro. Va bene, amori miei. Tanti baci belli. Sempre dal cuore, amori miei. E dalla cucina di Gilda. Ciao, amori. Ciao, belli. Fatemelo sapere se vi sono piaciute, eh. E certo. Ciao, amori. Che te lo fanno sapere. Tanto lei magna. Ciao, belli. Ciao, amori. Bacione grande. Ciao, ciao. Am. Ciao, ciao. Grazie a tutti.